Nuovi aggiornamenti dal governo, il governo inglese, in sostanza hanno diffuso un comunicato per cui, secondo i nuovi accordi presi con l'Unione Europea, tutti i cittadini europei che arriveranno in Inghilterra entro il 29 marzo 2019 e che hanno già vissuto 5 anni nel Regno Unito, potranno iscriversi per rimanere in un tempo indeterminato nel Regno Unito. Tutti quelli che invece non sono stati qua per 5 anni prima della data di uscita ma saranno arrivati entro il 29 marzo 2019, anche loro saranno in grado di ottenere il permesso e di stare anzi sino a quando non raggiungeranno i 5 anni al fine di ottenere il permesso per stare qua a tempo indeterminato. Tutti i membri della famiglia, di chi dall'Europa vissuto e vive in UK, potranno anche loro fare l'application quindi iscriversi per avere questo stato di tempo indeterminato dopo aver passato ovviamente 5 anni in UK. Tutti i bambini che saranno nati anche dopo l'uscita saranno protetti da questo punto di vista con la propria famiglia, eccetera. Anche tutti i membri familiari vicini a chi ottiene il permesso potranno unirsi ai propri familiari che invece vivono qua nel Regno Unito. Avranno nel 2018 la possibilità di accedere a una sorta di sistema di iscrizione online che ancora non c'è ma arriverà al fine di iscriversi e di dichiarare il proprio stato al fine dopo i 5 anni di ottenere il permesso definitivo. Tutti i diritti legati alla salute, alle pensioni e a tutti gli altri benefit rimarranno assolutamente non cambiati. Vi aggiorno sempre, se volete rimanere connessi a questo tipo di aggiornamenti legati appunto agli italiani perché io sono un italiano in Inghilterra, Londra, per l'esattezza, ma tutti gli italiani in UK fate like sulla mia pagina Marco Camisani Calzolari e scegliete mostra per primi come aggiornamenti. Se invece ritenete che questo video possa essere utile a qualcuno condividetelo in modo che anche gli altri amici possano avere questa informazione. Grazie a tutti.